Eccoci di nuovo insieme, lo ritroviamo con grande piacere, Gian Maria De Paulis. Buongiorno, bentornato. Buongiorno al pubblico. Che si dice? Tante cose. Abbiamo tante cose da dire. Anche perché in 15 giorni nel settore di Gian Maria De Paulis cambia il mondo. Magari quello che abbiamo detto 15 giorni fa è superato. Scompaiono le macro aziende, ne appaiono di nuovo, è facile di tutto. Parliamo anche dei Nokia, Lumia, che cosa sta succedendo. Invece due cose importantissime, sempre in ottica di sicurezza, tra l'altro una micro rassegna stampa degli ultimi giorni, degli ultimi settimane, proprio dal quotidiano nel centro. Due articoli, eccole qua, finte mail dall'agenzia delle entrate, ne leggo un'altra, suota la post pay di una ragazza. Sì, questa è stata... Truffatore scopre i codici e ruba 600 euro spesi per il gioco. E come si fa? Allora, ecco qui, allora, soprattutto suota la post pay di una ragazza. Attenzione, perché si tratta sempre di attività tendenzialmente di phishing. Fishing, ricordiamo, che cos'è il phishing, che tecnicamente significa pescare. Praticamente si tratta di invio di email, queste email che assumono l'aspetto come di un email reale di una banca, delle poste, di altri istituti creditizi. A quel punto vi richiedono, o per la verifica del vostro conto corrente online, o per, in qualche maniera, confermare un possibile bonifico che sia arrivato. Quando mai si confermono i bonifici? Di solito i pagamenti si confermono, però... La domanda in effetti è, ma chi ci crede? Eppure qualche uno, purtroppo, capita a volte che qualche uno ci creda, perché cosa succede? Succede che poi... Cioè, puntano sui grandi numeri, nel senso... Ovviamente, quando inviano, invieranno a 100.000 persone, però su quella del 100.000 c'è sempre una micro percentuale dello 0,5 che poi si trasforma in denaro, purtroppo. Perché molte persone, ma a volte anche per distrazione, nella fretta delle attività quotidiane, che ormai è diventata questa fretta quasi intollerabile, Allora, si vede, oddio, che c'è la banca, fammi entrare a vedere che cos'è. Secondo me si clicca un link, si apre una pagina che è esattamente uguale a quella della banca o delle poste, poi inserisco login e password, non succede niente. Ma, forse un errore. Chiudo la finestra, in realtà, quella login e quella password sono andate a finire in mano a qualche uno, che poi si collegherà ed effettuerà delle operazioni sul nostro conto corrente, o conto postale, in questo caso. Quindi, per legge, le banche non possono inviare link per quando concerne modifiche di password o comunicazioni del genere. Vi possono solo inviare mail di tipo informativo. Non so, una nuova attività, una nuova promozione, ma assolutamente no. Quindi, quando trovate dei link all'interno della posta elettronica che riguardano banche, che riguardano poste, qualsiasi servizio di tipo credizio, potete cestinarle. Perché sicuramente... Cioè, non le aprite per niente. Non le aprite per niente. E anche perché se ne trovano tutti i giorni. Ma se ne trovi, ormai è diventata quotidiana la cosa. Ma guardate, una volta, dicevamo un po' di tempo fa, a volte non si leggono perché sono un italiano non perfetto. Sono diventati bravi anche in quello, eh. Un italiano perfetto. Anzi, a volte, gentile Gian Maria, proprio sembra mirata la cosa. Quindi, attenzione, attenzione perché, ecco, poi Sant'Egidio della Vibrata, per dire queste cose, non è che cadono nel mondo, ma cadono... Sotto casa. Sotto casa, sotto casa. Esatto, sì. E invece, un'altra cosa importante, la citiamo rapidamente, riguarda l'Hollipop. Che cos'è l'Hollipop? Che tecnicamente significa lecca-lecca. Vedi che te le fai da solo le domande, perché... Su certi aspetti di questo settore... No, ma una cosa simpatica, perché lo diciamo a tutti gli amici di Android. Eccolo qui, questa è una prima schermata. L'Hollipop sarebbe Android 5.0. Cioè il nuovo sistema operativo dei cellulari che saranno immessi sul mercato. Teore, lo dovrei sapere, visto che io ho sempre avuto cellulari con questo sistema. Ma tra poco ti arriverà l'aggiornamento, probabilmente. Quindi a tutti i sistemi Android. Già è operativo sui nuovi Nexus. Vi ricordo che il Nexus sarebbe la versione dei cellulari di Google, per capirci. Il Nexus 5 e il 7 già dovrebbero essere installati. Tra qualche settimana probabilmente avrete le notifiche. Vari Samsung, Huawei, LG e così via. Vi ha la notifica dell'installazione, se compatibile il vostro cellulare, del nuovo Lollipop. Cioè del nuovo Android 5.0. Migliorati in tantissimi aspetti e soprattutto nella velocità. Bravo, ma soprattutto si bloccherà un po' di meno. Si bloccherà un po' di meno. Sì, però, ripeto, anche iPhone qualche volta si tende un pochino a bloccare. È normale che ogni cellulare viene utilizzato in 10.000 modi diversi. Quindi qualche volta può capitare. Un consiglio è sempre quello di riavviare qualche volta il cellulare, perché poi ci rendiamo conto che non lo riavviamo per mesi. Un po' come il computer. Il computer, se non si riavvia per due giorni, si blocca a figurarsi a volto il cellulare. Cancellate tutte le memorie. Andate nelle impostazioni, svuotate sempre la memoria. Tante volte rimangono in memoria applicazioni che non utilizziamo più da settimane, però continuano a utilizzare appunto la memoria del cellulare. Dobbiamo snellirlo, insomma. Snellirlo, un po' ripulirlo. Un po' come fare le pulizie. Sì, un po' come fare le pulizie. Di Passo, quelle di Natale in questo caso. Ma si può risalire a chi invia queste mail? Non si può risalire a chi invia queste mail, perché ovviamente ci riferiamo alle mail di phishing, perché innanzitutto sono società delingue ricostruite ad hoc per non essere rintracciate. Più delle volte i messaggi partono da server che si trovano in Russia, in altri paesi ancora più lontani dalla Russia, per cui perfino gli organi di controllo non possono a volte effettuare questi controlli fino a paesi così lontani, ma non per distanza, ma bensì perché le leggi sono diverse rispetto agli stati europei o italiani. Immaginate, c'è una sorta di ping pong nell'invio delle mail, tante volte il server che invia non è quello reale, ma è una sorta di rimando tra vari server, sono delle tecniche di oscuramento, in modo che diventa così impossibile risalire a chi è stato il vero server di invio. Non ci si arriverà mai. No, ma tra l'altro li utilizzano 24-48 ore e poi scompaiono questi server, vengono casomai ristallati in altre parti del mondo con altri numeri. Quindi è purtroppo non perseguibile così facilmente. Quindi attenzione, perché anche nel caso succeda qualcosa, diventa un problema dopo. Comunque se vi accorgete un consiglio, estratti conti, carta di credito, banco posta o qualsiasi tipo di banca, controllate gli estratti di credito. Quindi tutto ciò che sono gli estratti di conto, anche tutto ciò che sono le attività fatte, perché a volte il bonifico, a volte ci sono degli abbonamenti che non attivate, soprattutto sulle carte di credito, nessuno lo sa, che sono 10 euro, 9 euro mese, nessuno gli dà peso, e poi casomai in un anno ci hanno scaricato il 1000 euro dal conto corrente. Quindi controllate sempre l'estratto conto. Se c'è qualcosa che non quadra, soprattutto in società che non sono italiane, ovviamente, chiamate subito il vostro referente, e stoppate l'operazione. Novità, novità. Novità. Cosa arriva? Novità. Una cosa importante che... Tanto per cambiare, no? Tanto per cambiare, lo prendiamo pure qua. Sì. Una cosa molto importante, finalmente tutti quanti avremo Word, Excel, ecco una schermata, Word, Excel, sul nostro iPad, già c'erano le prime versioni, iPhone e anche Android, nei primissimi mesi del 2005. Che cosa sono Word? Che cosa sono Excel? Non penso che abbiano necessità di presentazione. Parliamo delle famosissime suite per poter lavorare in ufficio di Microsoft. Ormai sono diventate, non si dice più un programma per scrittura, ma si dice il Word, per quando sono entrate, sono diventate un'antonomasia, nella nostra terminologia. Queste applicazioni sono... ci sono delle versioni gratuite per tutti i supporti, per l'iPad già c'era, adesso è diventato gratuito, c'è anche per iPhone, sta arrivando a brevissimo anche per Android. Praticamente, la cosa più importante è che sono le applicazioni che utilizziamo quotidianamente, quindi possiamo lavorare i nostri file sia a casa, sia poi attraverso i tablet o gli iPhone. Già c'erano altre applicazioni compatibili, ma queste sono proprio quelle che forse si aspettavano da 5-6 anni. Dunque nel 2015. 2015 per Android arriveranno, c'è la versione gratuita e c'è la versione anche a pagamento, io ho utilizzato quella gratuita, è soddisfacente. Quella a pagamento, date servizi a valore aggiunto, ma già quella... Dipende da quello che ci serve. Esatto, esatto. Tanto per cambiare, mi sa che parliamo di una nuova frode. Sì, prima... Così, ci siamo un attimo concessi un po' di pausa con questo nuovo sistema che avremo... Alterniamo, così, tra una frode e una bella notizia. Però, lo diciamo con ironia, ma purtroppo sulla rete ne girano tante troppe. E come avete sentito, purtroppo spesso, anzi quasi sempre, non si riesce ad individuare il mittente. Diventa sempre molto, 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 molto complesso perché la rete da libertà, allo stesso tempo, in questa libertà qualcuno si nasconde e riesce ad ottenere e a fare quello che vuole. Questa invece riguarda una comunicazione che in questi giorni sta girando, 800 assunzioni per le ferrovie dello Stato entro il 2015. C'è stata tutta una serie di email che giravano di comunicazioni per quanto riguarda presunte 800 assunzioni. Si collegava, ci si cliccava e ci si collegava a questo link. Ovviamente, questo messaggio è fatto per intercettare i giovani e i giovanissimi. Un po' come stava succedendo prima nella rassegna stampa, l'abbiamo purtroppo letto. Ci si collegava a questo sito e si diceva che per poter partecipare bisognava fare un piccolo versamento. Io cerco lavoro e ci devo fare anche un piccolo versamento. È una cosa, ovviamente, è una truffa. Le ferrovie dell'estate hanno detto assolutamente no di utilizzare i loro moduli online perché stanno comunque analizzando il discorso di possibile assunzione del 2015 ma di utilizzare i loro moduli online sul sito ufficiale di Ferrovie dello Stato e quindi non collegarsi a nessun link che proviene dai mail in quanto loro non fanno queste attività e non sono stati delegati e non hanno delegato a società terze la raccolta di curricula o di selezioni. Comunque possiamo, comunque credo dire che quando c'è una richiesta di lavoro o di assunzioni nessuno in teoria dovrebbe chiedere soldi. Nessuno, però tante volte... O comunque se qualcuno ve li chiede fate una telefonata voglio dire prima di versarvi questi soldi. Una telefonata non si sbaglia mai. No, infatti. La diffidenza in questo periodo è la, diciamo così, forse alla base di qualunque cosa voi facciate. Prima parte diffidente. Siate diffidenti. No, no, ma su internet... Dopodiché fate tutti i passaggi che dovete fare per accertare se quello che leggete e se quello che volete fare corrisponde insomma al vero. Però diffidate. Allora, nell'informatica ci sono due politiche nella sicurezza informatica che ormai nella letteratura ovviamente una ha preso piede e l'altra non si usa più. La prima era il sistema viene completamente aperto e poi piano piano chiudiamo la sicurezza e analizziamo. Ovviamente questa scelta nella storia ha fatto capire che non era più adatta quindi oggi le politiche di sicurezza informatica nelle grandi aziende nei grandi staff è quello invece di chiudere tutto diffidenza quindi chiudere tutto e invece fare delle aperture quindi degli accessi dei canali informatici solo dopo aver verificato la fonte è un po' il messaggio diffidate di tutto solo dopo una verifica procedete Allora Microsoft presenta Lumia che è il primo Lumia senza Nokia che era Lumia Nokia di prima mattina Lumia, Nokia un'altra c'erano 33 trentini che andavano a 30 ore esatto ma invece ci sono Lumia e Nokia ok però eccoli qua saranno pure complicati e difficili da allora che cos'è allora guardate però belli sono belli devo dire la verità sono corrati sono giovanili un sacco di ragazzi vanno in giro a me personalmente il Nokia trattino Microsoft ormai Lumia piace è un cellulare che il rapporto prezzo qualità a mio avviso non ha rivali è bello nel design ed ha un ottimo sistema operativo che si è consolidato nel tempo che è Windows Phone l'unica cosa eccolo qui la notizia perché arriva questo è il nuovo modello il Lumia 535 che tra l'altro pensate il costo si dovrebbe girare intorno ai 140 euro parliamo veramente di una macchina molto molto carina cioè fa tutto a parte che fa tutto a parte che fa tutto ma poi la cosa bella è che è marchiato completamente Microsoft quindi ormai il Nokia la famosa marca Nokia noi sappiamo che Microsoft ha rilevato Nokia sta piano piano sparendo nel frattempo vi faccio girare se riusciamo anche il video così lo vediamo eccoci qua è molto molto bello e soprattutto ripeto è un cellulare di accesso che permetta a un costo basso di avere veramente un bello smartphone ha in qualche maniera pensate c'è una funzionalità che se vi fate un selfie vi da una mano ad inquadrare anche se voi non riuscite a vedervi che insomma la telecamera è girata ci sono dei segnali per cui vi aiuta a fare il selfie o le fotografie ci sono delle applicazioni dedicate ma veramente e soprattutto a breve già c'è dentro tutto il pacchetto Office perché ovviamente Microsoft l'ha rilasciato all'interno del cellulare e sarà abilitato a breve anche Cortona che cos'è Cortona? sarebbe il famoso Siri cioè sarebbe il famoso sistema vocale per dare i comandi al cellulare che dovrebbe essere rilasciato a breve anche in italiano quindi per i giovani o per chi vuole un bel cellulare sicuramente anche rispondendo a un amico nostro e tene volte ci diceva ma il Nokia o comunque l'Ugna ottime macchine sicuramente Microsoft sta facendo una delle migliori scelte per quanto concerne il lancio di questi smartphone e sta piano piano recuperando il mercato piano piano ma sta recuperando soprattutto sulla fascia entry sta salendo perché si è reso conto ci si sta un pochino rendendo conto che questi cellulari che hanno un costo basso ma sono tendenzialmente molto grandi pensate a 8 giga di RAM sono forse un pochino migliori di alcuni Android a basso posto allora senza nulla togliere ovviamente per portare un esempio all'iPhone che è bellissimo voglio dire forse lasciamo perdere però la differenza di prezzo ce ne compri 8-9 5-6 domenica per vedere gli High Line del Teramo su YouTube ho cliccato su un link che mi è arrivato un SMS di Mobile Play aiuto vai che diceva attivate un abbonamento settimanale 4 ore e 99 ho dovuto telefonare a Win per disattivare e recuperare assolutamente sì anche qui nostro amico ci ha portato un esempio molto chiaro che capita e dico capita in due settori principali sport e permettetemi hot quindi sex tutto quello che insomma può capitare cioè tante volte ci si connette per accedere si dà un sì si dà una conferma attenzione sempre leggete sempre quello che c'è scritto perché poi a volte valgono come veri e propri contratti e vi attivate un servizio di abbonamento settimanale che ha 4 euro 15 euro mese anche abbonamenti tipo mensile vi permettono di vedere alcune video alcune informazioni di vostro interesse che poi in realtà tante volte non sono neanche quello che desiderate ma casomai è un accesso ad una banca dati capisco diciamo così i siti hot no? perché magari ma anche lo sport sì ma gli highlights del Teramo Teramo Calcio comunque non parliamo di Juventus ma potrebbe capitare anche questo che la parola highlights Teramo era la parola indicizzata sul motore di ricerca per cui uno ha cercato se è connesso al servizio può essere che dentro di Teramo non c'è nulla non è detto che ci sia Teramo però ci sono delle tecniche per poter indicizzare dei contenuti anche se poi questi contenuti proprio non sono quindi indicizzare parliamo sul motore di ricerca quando fate la ricerca anche se poi questi contenuti non sono presenti per esempio una volta e anche oggi va tanto di moda cosa che è sbagliatissimo vedere Sky senza abbonamento si capita spesso in questi servizi che attivano un abbonamento poi settimanale o mensile che in realtà Sky assolutamente non è visibile però comunque l'abbonamento c'è uno non se ne accorge lascia andare queste società qualche volta ci possono anche guadagnare poi non sono tutte scolette ci sono delle ottime società che fanno questi servizi però bisogna capire chi è più corretto Aruba nell'alto dei cieli Amen Aruba è un fornitore credo che sia sicuramente il primo fornitore italiano forse anche sta diventando uno dei primi fornitori europei tra l'altro da una bella notizia su Aruba che ho letto ieri Aruba a livello mondiale almeno Forza Italia Aruba a livello mondiale è riuscita a comprare il dominio di primo livello punto cloud che significa noi abbiamo conosciamo i siti www.teleponte.it www.aruba.it quel punto IT si chiama dominio di primo livello ed è importantissimo perché identifica geograficamente o la tipologia di attività uno dei più papabili al mondo dei domini era punto cloud come se fosse www.teleponte.cloud e c'è stato un'asta e questa piccola società italiana di fronte ai grandi colossi mondiali si è giudicato il punto cloud quindi un merito alle nostre società di informatica quindi ritornando a noi non attivate nessun abbonamento se succede chiamate subito il vostro operatore telefonico immediatamente e chiedete la disattivazione attenzione perché a volte è veramente leggerissimo capire quando si attiva o non si attiva questo abbonamento però dovrebbe sempre arrivare un sms se non vi arriva nessuna comunicazione è illegale quindi potete immediatamente disattivarlo se vi arriva l'sms probabilmente una piccola parte la dovete pagare purtroppo ma si tratta sempre di pochissimi euro acquisti online si amazon una cosa interessante quindi passiamo a un'altra bella notizia per noi italiani amazon italia amazon service ha fatto un accordo con poste italiane per cui dovrebbe già essere operativo ma spero nei prossimi giorni sono un grande fautore utilizzatore di amazon per alcune attività per alcuni servizi di acquisto vi permette di comprare un libro un dvd un prodotto quello che sia è farlo recapitare non a casa vostra che non ci siamo siamo fuori il corriere passato alle poste italiane nell'ufficio delle poste italiane e parliamo di oltre 10.000 punti di consegna alle poste quindi potete comprare un prodotto su amazon lo fate consegnare all'ufficio postale più vicino a casa vostra e con calma andate a prendere ovviamente con calma nell'orco di un giorno come un pacco postale come un pacco postale come pagate il deposito però è un servizio di grande utilità perché ripeto tante volte i corrieri ce li perdiamo anche noi ce li scordiamo sapere che è arrivato qualcosa alle poste probabilmente vi arriverà una notifica via email e andarlo a ritirare quando vi rimane più comodo è un ottimo servizio per incentivare vedi come l'e-commerce si lega sempre di più al commercio reale e nello stesso tempo alle strutture commerciali che esistono in Italia buongiorno io voglio chiedere una cosa Facebook mi chiede sempre il numero di cellulare poi il numero finisce sulle informazioni perché è normale io adesso non ho fornito nulla allora qui ci sarebbe da aprire un mondo su questo messaggio Facebook cellulare Facebook tra virgolette desidera avere i nostri cellulari per profilarci per contattarci vi chiede il cellulare per un discorso di sicurezza per assicurarvi che l'account sia il vostro e vi manda un sms di notifica sicuramente inserire il cellulare su Facebook in maniera pubblica lo sconsiglio vivamente quello che vi consiglio è se lo volete inserire anche perché il cellulare vi permette in caso di furto dell'account di recuperare il vostro account su Facebook in maniera più facile lo potete inserire ma appena lo inserite andate nelle impostazioni della privacy e mettete come chi può vedere il mio cellulare solo io e quindi in quel caso non lo potrà vedere nessuno io nel mio caso ho il mio cellulare ma nessuno lo potrà vedere perché è abilitata come privacy solo io ma in caso di furto o in caso di accesso da postazioni che io non ho autorizzato mi arriva un sms qualche d'uno sta provando ad accedere o qualche d'uno ha effettuato un accesso dal computer presente a Milano quindi sicuramente un ulteriore metodo di controllo non lo lasciate pubblico perché a quel punto poi chiunque può utilizzarlo a parte Facebook chiunque a proposito mi è venuto in mente Facebook perché c'è di mezzo Facebook anche parliamo di Whatsapp e delle novità che riguardano Whatsapp anche questo è un altro mondo incredibile un altro mondo ultimamente Whatsapp sembra il discorso infatti il messaggio sembra quasi preparato sì sembra fatto apposta è vero certo se non lo vuole mettere il cellulare non sbaglia e comunque non lo metta Facebook lo può consultare lo stesso anche se insieme il cellulare quello comunque sta là esatto qualcuno con il cellulare prima o dopo lo vede e invece anche qui Whatsapp tutta la polemica degli ultimi giorni Whatsapp la conferma di lettura le due famosissime freccette che diventano blu hanno dato fastidio in qualche maniera ognuno si è sentito intaccato nella propria privacy perché giustamente il messaggio è io leggo il messaggio quando dico io perché devo far sapere al mittente del messaggio che io l'ho letto sì c'è non c'è no sinceramente non credo che questo sia il problema ma sono talmente tanti modi per comunicare adesso che uno se non vuole far sapere se ha letto o non ha letto fa un messaggio un messaggio un messaggio avete visto come Dorotea operativamente ha subito risposto se no della serie leggo quando mi pare e poi ti rispondo quando mi pare se non ti sta bene non mi scrivi non è un obbligo rispondere a domanda io mi ricordo a scuola non dovrei dirlo ma non era un obbligo rispondere poi andavi a poco il famoso allora però che succede succede qualcosa non è piaciuto esatto una specie di rivolta sembrerebbe ovviamente mettiamo sempre questa terminologia sembrerebbe che nel prossimo rilascio di Whatsapp a breve dove potrebbe essere sbloccato anche il fatto di fare telefonia tramite Whatsapp Facebook inserisce un'opzione per cui diventa possibile attivare o disattivare questa notifica di lettura che a mio avviso non è assolutamente sbagliato su internet molte persone mi chiedevano ma come si può fare come non si può fare comunque non dare la notifica c'è una modalità aerea modalità aerea significa spegnere un attimo tra virgolette tutte le connessioni leggere il messaggio e poi riattivarlo ma giustamente qualche d'uno ha detto sì ma io l'ho riattivato poi l'ha messa dopo la notifica quindi un po' di pazienza se qualche d'uno desidera un'altra app importante per parlare sappiate che dopo Whatsapp forse è meno conosciuta ma comunque è molto utilizzata c'è Viber che è comunque un'app molto eccola qua Viber che è un'app comunque molto molto utilizzata ed è l'alternativa oggi come non mai di Whatsapp quindi per chi desidera può scaricare ovviamente come si scarica Whatsapp gratuita funziona su dovunque eccola qui ecco qui Viber che è un'altra sì 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 che è un'altra per chi vuole spostarsi eh però ovviamente è anche vero che Whatsapp oggi ce l'hanno tutto Viber devo dire la verità che è comodissimo Whatsapp poi con che cosa chiudiamo? con un altro alert oh beh se no altrimenti facciamo allerta ai naviganti la prossima volta esatto dalla rubrica della rubrica cosa molto importante si chiama Mask Attack vale per gli iPhone tendenzialmente dalla versione 7.1 in su ecco il video che adesso lanciamo mentre fanno vedere se riusciamo a farlo vedere che cosa succede vi dico subito di cosa si tratta vi arriva un'email all'interno di quest'email c'è un link per installare un'app e è uscita proprio qualche giorno fa quindi attenzione vi dice di installare un'app gratuita quando cliccate su questa app su questo link vi fa appunto eccolo qui scaricare qualche cosa ma quello che fa in realtà vi fa scaricare qualcosa senza passare per l'Apple Store e quindi vi fa scaricare qualcosa di non molto legale infatti in questo caso qui ovviamente non lo vedremo tutto perché dura qualche minuto fa scaricare un'applicazione che va a sostituire l'applicazione di Gmail per la posta e automaticamente che cosa va questo programmino installato? copia nella finestra centrale tra poco lo vedrete vedete come è andato a sostituirlo copia completamente tutta la vostra rubrica e tutte le vostre mail su un server e quindi la vostra intera privacy viene completamente messa alla testa a proposito di privacy a proposito di privacy ecco vedete lui sta a carica a far vedere l'applicazione non è cambiato niente tra qualche minuto nella finestra centrale veramente non fate nulla eccolo lì guarda è apparso quel file là quel file lì c'è tutta la posta elettronica del nostro amico quindi non fate nulla è un po' limitato abbiamo capito che non dobbiamo fare se non siamo già Maria De Paulis non facciamo nulla no 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 assolutamente che tutti ci capitano e tutti ci capitano no no il messaggio è questo non installate applicazioni sul vostro cellulare dagli store non ufficiali perché non sapete cosa prendete sappiate che su Apple per quanto riguarda iOS quindi iPhone e iPad sono molto rigide nella selezione di applicazioni quindi quando installate qualcuno l'ha controllato se li installate in esterno anche tramite anche sbloccando il cellulare ci sono altri store pure che permettono di fare attenzione perché non sapete cosa prendete quindi le applicazioni si installano solo dall'Apple Store se volete stare tranquilli altrimenti entrate nella deep internet e poi scrivete fra 15 giorni a Gian Maria De Paulis per sapere come fare poi ad uscire fuori dai guai che purtroppo ci andiamo a cercare ma magari è pure facile ma nei cifrari oggi c'è tutto ci sono le numeri pensate se vi bypass un'applicazione per fare internet banking eh vabbè punto no punto e qui ci fermiamo qui ci fermiamo questa bella notizia e noi ci ritroviamo tra 15 giorni in maggio con tantissime novità grazie Dorota grazie al pubblico che ci sopporta e buona giornata le informazioni sono comunque davvero utili quelle che ci porti sempre grazie grazie Gian Maria ci vediamo tra 15 giorni andiamo in pubblicità e poi incontriamo il sindaco di Giulia Nova Francesco Mastromauro grazie a tutti ah